Quando la mia mamma ride, lei scuote tutta la casa, tutto l'appartamento e quando lei sorride il volto le si illumina e diventa come una giornata calda d'estate, libera, con un soffio di vento fresco. E allora in quel momento io mi sento invincibile perché penso ma chi o che cosa mai nel mondo vorrebbe mai potersi privare di quel fiore che le sboccia tra le labbra? Allora mi sento invincibile. Con lo spettacolo Viviamoci di Giorgia Mazzucato che ha festeggiato i 10 anni di repliche è ripresa la stagione della Sala Paolo Poli che è giunta al suo terzo anno di attività. Spegnete insomma questa terza candelina. Finalmente dopo la pandemia, noi abbiamo aperto nel 2019 a dicembre, quindi dopo tre mesi ci hanno chiuso e finalmente possiamo riaprire quest'anno alla grande con una programmazione ricca e speriamo senza interruzioni improvvise per qualche sorpresa. Hai parlato di programmazione però voi fate tante altre cose. Sì, noi facciamo, abbiamo una scuola di teatro che è a 10 metri dal teatro che in realtà è nata prima, Arcadia è nata prima come scuola. È una scuola di formazione dove fa musical, canto, chitarra, recitazione, c'è un po' di tutto. Il teatro è aperto dopo e si presta anche alla programmazione aperta al territorio. A proposito di programmazione vogliamo entrare un momentino anche nel dettaglio? Il dettaglio è un po' difficile perché sono 34 spettacoli messi in programma però posso dire che quest'anno abbiamo voluto agevolare e accogliere nel teatro molta produzione locale, molte compagnie, molti attori che si sono affermati negli anni e abbiamo dato spazio a loro, abbiamo pensato che fosse giusto essendo uno spazio del territorio offrire uno spazio alle compagnie del territorio. Sarà una stagione divertente, impegnata, riflessiva? Ah c'è un po' di tutto, c'è teatro comico, c'è musica, tanta musica, c'è anche danza, ci sono commedie, c'è un po' di tutto, veramente è una relazione molto ricca e noi vi aspettiamo. La cosa che mi interessava divulgare è che ci sono degli abbonamenti open, sono interessanti perché sono abbonamenti che danno diritto a dei biglietti molto ridotti e soprattutto li puoi girare a amici e parenti, quindi quale miglior regalo di offrire degli spettacoli a buon prezzo, degli spettacoli di qualità a buon prezzo. Una intensa stagione che durerà ininterrottamente fino al prossimo maggio. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbini.